Ciao a tutti e benvenuti. Allora vi faccio un rapido racconto di come possono cambiare i cicli e le fasi lunari da un'estate all'altra. Allora, un'estate fa, a fine mercato, non eravamo a fine agosto perché l'anno scorso era tutto sfalsato, però insomma negli ultimi giorni di mercato io ho dovuto passare giorni e giorni a giustificarmi sui motivi per cui non era arrivato Bakayoko, perché i tifosi del Milan volevano assolutamente Bakayoko un anno fa nel cuore del centrocampo del Milan. E allora avevo passato diverse chiacchierate anche qui su YouTube a spiegare, guardate che Bakayoko è stata un'opzione, un'ipotesi di mercato, anche un anno fa voleva fortemente venire, però poi il Milan ha preso Tonali, ha preferito andare su un progetto, su un prospetto giovane, su un progetto di tipo diverso, su un'operazione di tipo diverso. Una volta acquisito Tonali, Bakayoko poteva entrare solo se fosse partito Krunic. Krunic ha voluto rimanere, ha avuto un'altra chance dalla società perché il primo anno aveva avuto una stagione piena di infortuni e quindi essendo rimasto Krunic non poteva arrivare Bakayoko. Ma tutti mi attaccavano per il fatto che non era arrivato Bakayoko, perché era importante per rivolgustire il centrocampo, per darci spessore, per darci muscoli, tutte le cose che ci stiamo dicendo. Adesso sta succedendo il contrario, mi hanno già scritto in due? Adesso ci esaltiamo per Bakayoko. Ragazzi, ragazzi, io voglio dire, la mia salute mentale l'ho messa, l'ho messa a dura prova e l'ho avuta in bilico per tanto tempo, non è che crollo proprio adesso, però a starvi dietro è dura, starvi dietro è veramente, veramente molto dura. Continuiamo a parlarne. Prima fatemi salutare OneFootball che sostiene l'attività di questo canale YouTube, OneFootball e i suoi contenuti, video soprattutto, gli highlights di 12 campionati, OneFootball e la sua app, l'app gratuita di OneFootball, la potete scaricare tranquillamente, direttamente dalla descrizione di questo video, vi consente di approfondire, vi consente di consultare tanti contenuti video, tanti highlights, tutti gratuiti sulla app di OneFootball. Uno mi ha scritto che era meglio Meite, con tutto il rispetto per Suaglio Meite, l'anno scorso veniva criticato molto Meite e insomma per il rendimento che ha avuto nel Milan, mi è sembrato, il Milan è una società che riscatta, il Milan è una società che quando i giocatori vengono qui e si integrano bene, il Milan è una squadra in questo momento che ha un buon gruppo, un buon gioco, per cui è facile integrarsi, Chier è stato riscattato, Salemeckis è stato riscattato, lo stesso Tomori è stato riscattato, Brain Diaz è tornato, voglio dire, per due anni, Meite non è stato riscattato in base al rendimento, dignitoso, ma mai purtroppo sopra le righe che ha offerto nel Milan. Adesso era meglio Meite di Bakayoko, mentre un anno fa dovevi passare le giornate a giustificarti, a discolparti per il fatto che non era arrivato Bakayoko. Adesso Bakayoko è lo scarto di altri, di altri club, un altro mi ha scritto, come Florenzi, beh Florenzi era uno scarto della Roma anche l'anno scorso che è andato al Paris Saint Germain, ne ha fatto il titolare, ha fatto il titolare per 36 partite, poi il Paris Saint Germain se l'è preso, se l'è preso l'anno scorso, non 300 anni fa. Io ricordo l'anno scorso ad esempio mi veniva detto, mi veniva detto che anche da autorevoli commentatori e opinionisti che il Napoli prendendo Bakayoko aveva messo la freccia rispetto al Milan, c'era un'aspettativa molto alta su Bakayoko. Poi le cose fra Bakayoko e il Napoli non sono andate bene, succede, io credo che lui abbia una voglia tutta speciale di imporsi qui al Milan. E quindi da questo punto di vista ci sono anche allenatori importanti che un anno fa non allenavano e che mi dicevano guarda che era molto importante prendere Bakayoko, per cui io non cambio idea, io resto sempre della mia, ma quello che mi scrive adesso ti metti cosa? Volevo Bakayoko anche un anno fa, poi ho capito i motivi per cui non era stato possibile che arrivasse. Noi quest'anno, io ho messo uno sponsor in copertina, noi quest'anno stiamo continuando a lavorare per la risalita del Milan, noi non siamo mica arrivati alla fine del tunnel, noi siamo diciamo pure quasi a metà del tunnel, dei nostri anni difficili, dei nostri problemi economici. Il Milan continua a risalire la china, il mercato di questa stagione è un mercato in cui hai fatto più o meno le stesse cose dell'anno scorso ma hai consolidato il pregresso, ti sei tra virgolette regalato perché i soldi sono tanti che vengono spesi dalla proprietà, ti sei regalato dei giocatori che non sono più in prestito ma sono di proprietà, ad esempio Tomore, ad esempio Tonari. Comunque due anni di calcio per Brian Diaz sono già un qualcosa di più stabile rispetto all'anno scorso, quindi tu hai consolidato le tue esperienze, hai speso molti soldi, hai sostituito Donnarumma con un portiere forte e il resto hai fatto quello che hai fatto l'anno scorso, forse qualcosina in più a livello di movimenti, a livello anche di quantità di movimenti, c'è stato più tempo, ad esempio hai potuto pensare anche all'attaccante giovane, se si fosse venuto da noi Caio Giorgio e si fosse fatto male subito apriti cielo e invece altrove passa un po' tutto nelle elettrovie. Quindi anche di sponsor sono importanti, quindi adesso iniziamo in un'altra fascia tra i 20 e i 30 accordi commerciali negli ultimi 12-13 mesi, perché questi sono tutti passi lenti, è chiaro che con il nuovo sponsor non prendiamo Cristiano Ronaldo domani mattina, a proposito chi lo prende voi lo sapete e torna allo United, beh insomma mi sembra la giusta chiusura di un cerchio da parte di Cristiano andare allo United piuttosto che al City. Però sono tutti passi, sono tutti passi importanti, uno dopo l'altro, che continuando il progetto, lavorando con pazienza pancia a terra nel giro di due o tre anni, più tre che due, ti riportano ad alto livello stabilmente. Adesso la nostra impresa è quella di rimanere fra le prime quattro quest'anno, questo è cruciale, questo diventa fondamentale e quindi è qui che il Milan deve svoltare, perché tra le prime quattro ci siamo arrivati, è stata dura, però adesso tra le prime quattro bisogna rimanerci, perché altrimenti vedete ad esempio il Napoli, il Napoli due anni senza Champions League, quest'anno il Napoli non ha fatto mercato in entrato. Noi giochiamo domenica sera a San Siro con il Cagliari con un'altra squadra che quest'anno non ha fatto mercato, perché qui tutti quelli che dicono prendiamo questo, prendiamo quell'altro, ragazzi, già solo poter dire prendiamo, rispetto a molte altre realtà. Adesso mi scriverà quello, adesso ci paragoni alla Sampdoria al Cagliari, non faccio paragoni, però la realtà del calcio italiano è questa, l'anno scorso se non altro le squadre facevano mercato in entrata, le altre squadre, quest'anno no, la Juventus ha giocato con l'Udinese, l'Udinese era quella dell'anno scorso senza De Paul, noi abbiamo giocato con la Sampdoria, la Sampdoria era quella dell'anno scorso, giochiamo con il Cagliari, Cagliari è quello dell'anno scorso. Quindi c'è tutta una classe, vogliamola chiamare media, del calcio italiano che non sta facendo mercato in entrata. Tu è chiaro che hai un'altra storia, un'altra dimensione, un'altra tradizione, ma lo stai facendo e quindi fai quel che puoi, contemperi, contemperi l'attenzione alla squadra e l'attenzione ai conti. Certo, certo non si può dire che il Milan non abbia investito, il Milan non abbia lavorato, il Milan non abbia costruito e provato a crescere, perché noi, questa stagione non è ancora la stagione in cui torni in un certo tipo di fascia, un certo tipo di slot, stai continuando a crescere, stai continuando il cammino, stai continuando la risalita e bisogna continuare la compazienza, senza far mettere, fare il nasino all'insù, senza fare gli schizzinosi, senza dire una cosa un anno e dirne un'altra un anno o dopo, come dicevo all'inizio, ma non è generalizzato il mio pensiero, è rivolto a quei due di cui vi dicevo. Ciao a tutti, a domani per la rassegna.